vi aspettiamo in via piacenza 167 cereghino due passi in più per avere il meglio qualità cortesia convenienza su tv color ricezione di esatellite videoregistratori piccoli e grandi elettrodomestici tutto questo è cereghino venite a visitare la nostra esposizione troverete una linea completa di elettrodomestici da incasso delle migliori marche che vi permetteranno di sfruttare al meglio il vostro spazio vi aspettiamo in via piacenza 167